Allora, questo video è per quelli che dicono che dico un sacco di fesserie, un sacco di scemenze. Dunque, se voi siete fanatici religiosi, che vi siete aggrappati a quelle vostre religioni antiche e ignoranti del passato, che sono state create per confondervi le idee e per mantenervi schiavi degli alieni che sono venuti qui 12.900 anni fa, dovete sapere che quelle religioni se ne fregano della vostra salvezza, se ne fregano di salvare le vostre anime, vogliono soltanto mantenervi ignoranti. Perché? Perché se voi capite chi veramente siete e qual è il cammino della vostra evoluzione, non sareste mai schiavi di questi alieni che sono venuti qui e che vi hanno raccontato un sacco di bugie. Voi che tanto temete di non riuscire ad andare in paradiso, rischiate proprio di non andarci perché siete ancorati a queste religioni che impediscono le evoluzioni. Voi che temete tanto di andare all'inferno, rischiate di andare all'inferno proprio perché vi siete ancorati a queste religioni che se ne fregano della salvezza della vostra anima. Io invece vi spiego in che cosa consiste la salvezza della vostra anima. Riflettete, usate questo dono meraviglioso che Dio vi ha dato. Ma voi credete che Dio è contento? Che voi credete alle prime stupitate che vi dicono quelli che dicono che scrivono i testi sacri pieni di contraddizioni, di scemenze, di idiozie, di cose contro l'umanità, contro la donna contro i diritti umani. Ma l'avete mai letta la Bibbia? Ma leggetela. Leggetela la Bibbia, il Corano, tutti i testi antichi, leggeteli. Ma perché non studiate? Allora forse capirete che ho ragione io.